Il diavel non è soltanto una nuova moto, è qualcosa, qualcosa che cambia le regole del gioco. È muscolare, bassa, comoda, ma allo stesso tempo leggera, divertente nelle curve e tecnologica. È una moto che rinventa il concetto di sportività e ancora una volta indiscutibilmente educata. Lo ho provato ed è davvero incredibile. Un'accelerazione impressionante da 0 a 100 in due secondi e sei. Una frenata da MotoGP o da Superbike e poi si riescono a fare delle pieghe impressionanti. Basta veramente fare un giro per capire che cosa si ha in mezzo alle gambe. Poi basta uno switch, si passa dal mode sport al mode touring e la moto diventa un gattone. Una moto con cui si può andare a prendere un aperitivo con la ragazza o andare al cinema a farsi un giro anche. E poi ha questi segni caratteristici veramente forti, questa gomma esagerata, esagerati, cerchi ricavati dal pieno, questa coda che non c'è, il cupolino aggressivo. È qualcosa che non si è mai visto prima. Bisogna provarla per capire che cosa è questa moto. È lei. Siamo partiti da un foglio bianco e l'abbiamo riempito di passione e idee. Così è nato il diavel. Ci siamo ispirati ad un atleta ai blocchi di partenza, muscoloso, agile e pronto a scattare. Abbiamo fatto dialogare tra di loro mondi che normalmente non si parlano, mondo delle sportive, delle cruiser e delle naked. In termini di design, le Superbike sono caratterizzate dal taglio della carena, molto vicino alla ruota anteriore, e dalla linea ascendente che va dal puntale verso la ruota posteriore, insieme alla coda slanciata. Una motocruiser è invece esattamente l'opposto. Il motore, ad esempio, è molto distante dalla ruota anteriore. Abbiamo poi conservato la sella bassa e le due linee discendenti che vanno dall'avantreno verso la ruota posteriore. E infine ci sono le naked, il monster. Volumi spostati in avanti, telaio e motore a vista, coda slanciata e faro tondo. Abbiamo unito questi mondi, eliminando tutto ciò che era superfluo. E' nato il diavel, il nostro atleta. Ogni dettaglio è stato realizzato con la massima cura, unendo forma e funzione. Ad esempio, i leggerissimi cerchi marchesini della versione carbon, evidenziati dal forcellone monobraccio, sono una vera e propria opera d'arte. Forgiati, lavorati di macchina, perniciati e ancora lavorati di macchina. Oppure le pedane e la mania del passeggero, che sono state pensate e disegnate per scomparire quasi magicamente. Il diavel è nuovo in tutto. È la prima moto dotata di cruscotto TFT a colori e le luci e gli indicatori di direzione a led sono stati voluti per mantenere le linee pulite e le forme futuristiche di questa moto. La tecnologia è ancora una volta al servizio di prestazioni e piacere di guida. Per questo il diavel dispone di tre riding mode, il sistema Ducati che consente di cambiare con un click potenza del motore e intervento del controllo di trazione. Il Ducati Safety Pack, composto da ABS di ultima generazione e Ducati Traction Control, garantisce la massima sicurezza in qualunque situazioni. Catturare tutti gli sguardi e sparire in un istante è la magia del diavel. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.